benvenuti o bentornati qua nel canale oggi un video molto 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 particolare che dovete seguire con estrema attenzione uno perché sarà emozionante due perché soprattutto potrà farvi capire che con i droni è meglio non fare cazzate tre vabbè via non aggiungo altro vedremo un volo di un mio iscritto che non mi ha rivelato la sua reale identità ma che mi ha mandato delle immagini che voglio assolutamente e obbligatoriamente condividere con tutti voi e mi sento anche di dirgli a lui che mi ha mandato queste immagini sei proprio una fava brillata e si scherza è un tuttora quella mia andiamo via insomma un video davvero pazzesco dove succede l'irreparabile un video grazie al quale vorrei davvero sensibilizzare chi vola a evitare di fare delle reali cazzate delle quali poi potrebbe pentirsene amaramente e allora siete pronti bene vediamolo insieme come al solito datemi un like per voi è un click ma per me è un gran segno che mi e poi vedo che il 52 per cento di quelli che guardano i miei video cavolo non sono iscritti ma remma sbudellata o com'è possibile e allora voglio dire andiamo via se voi siete a guardare questo video cioè voglio dire se voi siete iscritti ma andiamo via iscrivetevi no ma che ci vuole o che vuoi aspettare non ci vuole nulla basta cliccare sulla scrittina iscriviti vi aspetto qui eh ragazzi unitevi che siamo tanti e ci si diverte partiamo nel dire che questo test è totalmente fuori da ogni regola ebbene sì fuori da ogni regola ed è per questo che marco nome di fantasia che mi sono inventato perché non conosco realmente la sua identità mi ha inviato tutto il materiale che state per vedere a breve ma non ha voluto ovviamente fornirmi nessuna indicazione riguardo a lui mi ha solo mandato il materiale scrivendomi che avevano questa brillante chiamavano la brillante idea che ritenevano interessante un progetto che avevano programmato da un bel po' di tempo un test nel quale il suo Iuntec Typhoon H è salito fino ad un'altezza di mille metri da solo mille metri e come sapete e se non lo sapete ve lo ricordo la quota massima in altezza dove non ci sono limitazioni specifiche per far salire un drone è di 120 metri e non oltre Marco e i suoi collaboratori operavano in una zona del lago maggiore esattamente nella regione Piemonte ed è l'unico uno o l'unico o uno dei pochi dati certi che ho su questa situazione la missione era programmata e studiata da tempo e poi sulla stessa avevano analizzato sinceramente un po' tutto da come mi ha scritto il punto localizzato sulla mappa dove sarebbero saliti avevano verificato che non fosse oggetto di nessun passaggio aereo in quell'ora, in quel momento, in quella tratta ma per quello che poi è accaduto non poteva bastare tutto quello che avevano previsto questo un video che può far capire che sono cose da non fare io lo condivido davvero volentieri per sensibilizzare e evidenziare quello che può succedere, ovviamente oltre ad infrangere una legge che quello, vabbè, uno la infrange però se si fanno delle cose del genere ci possono essere delle conseguenze molto peggiori nonostante tutte le verifiche portare un drone a quell'altezza è un rischio pazzesco loro scrivono che avevano valutato ogni rischio eccetto beh, tra poco lo vedrete eccetto che la loro missione era quella di fotografare il Monte Rosa con la neve oltre il Monte Morissolo che ho verificato avere un'altezza di circa 1300 metri su livello del mare ma volevano riprendere anche l'impresa grazie a una ISTA 360 legata con una corda al carrello del loro Juntek Typhon H e dunque eccoci al gran giorno decollo dal lago sono saliti in verticale fino a 1000 metri tutto stava andando bene ad un certo punto però il drone ha perso il segnale video e la telemetria e a quel punto attendevano ovviamente un RTH come ovvio che sia e invece ecco cosa è successo adesso lo vediamo il tutto ripreso dalla camera del drone ma anche dalle immagini inedite tutte immagazzinate scusate dalla loro ISTA 360 che era legata al carrello immagini che credetemi non se ne vedono molto spesso di questo genere in rete dunque le condivido volentieri guardatele e poi facciamo delle considerazioni finali molto molto importanti insieme grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ista 360 intratta. Ma in pratica, cosa è successo esattamente a loro questo giorno sul lago Maggiore? Dopo circa dieci minuti l'hanno visto precipitare sopra di loro, ma prima il drone si era posizionato esattamente lassù, lassù in alto, fermo, iniziando a scendere molto 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 lentamente, piano piano. E ovviamente i comandi non rispondevano, la radio non rispondeva, il drone era là, faceva quello che voleva. Fino a che la batteria si è totalmente esaurita e lui è venuto giù di colpo. Allora avevano previsto un bel po' di cose loro, ma ovviamente non che il drone gli precipitasse. E dunque questo video cosa ci può trasmettere a tutti noi? Beh, oltre ovviamente a darci un'emozione forte e unica sulle immagini davvero mozzafiato che abbiamo appena visto, ci fa davvero riflettere che nonostante ci sentiamo sicuri di volare, anche se magari siamo fuori dalle regole ma siamo sicuri, va sempre considerato il motivo primario, ovvero il pericolo che possiamo arrecare ad altri con la nostra imprudenza. Sì, esatto, non è un dettaglio, è un qualcosa che dobbiamo sempre affrontare in modo serio. Sì, perché non è tanto infrangere magari una regola. Chi non ha superato in auto un limite di velocità? Ditevelo, alzi la mano chi non l'ha fatto, chi non ha mai superato il limite? Vi vedo tutti con le mani ciubasse, è ovvio. Pensate, vi ricordate il video all'Ivigno quando in Svizzera mi hanno attaccato le oche lungo il lago? Ve lo ricordate? Mi stava per attaccare? Veramente! Insomma, questo qua che vi metto nelle schede così lo vedete, se non l'avete visto. Ecco, subito dopo quella sosta che ho fatto, niente, sono ripartito con la mia auto, andavo a 58 km orari, per cui il limite era 50, in una strada non nemmeno transitata, e i precisissimi svizzeri in nemmeno 5 giorni mi avevano già recapitato questa! Davvero, una multa per eccesso di velocità. Ma che cazzo! Dunque, infrangere volontariamente, ma spesso anche involontariamente, succede. Ma quello a cui dobbiamo porre attenzione è il rischio quando facciamo delle cose, dipendentemente da infrangere o non infrangere una legge, che caso per caso possiamo eventualmente creare facendo degli errori, e anche appunto infrangendo delle regole. Pensate, se il drone fosse caduto su di una persona, su di una macchina in transito, insomma, delle volte si fanno delle cose senza nemmeno pensarci, e senza nemmeno pensare a quelle che potrebbero essere le conseguenze che ci possono succedere, e a cui punto, addio! Ringrazio onestamente Marco, che mi ha inviato questo materiale, chiedendomi di dargli di fava. Davvero, sei proprio una grande fava brillata! Ma soprattutto perché mi ha chiesto di evidenziarsi che delle volte la voglia di fare delle prove estreme può andare anche male, e che possa essere questa cosa di lezione a molti, nel capire che dobbiamo evitare assolutamente di fare delle cose delle quali potremmo poi pentirci, ovviamente. Questa non è una pippata, una predica, non è nulla, è solo un cercare di condividere con voi quello che dobbiamo porre attenzione. Lui e il suo gruppo, state tranquilli, l'hanno capito, perché dopo questa avventura credo siano rimasti abbastanza scioccati. Un abbraccio a tutti nella speranza di aver trasmesso, oltre che avervi fatto un po' di fippe, delle immagini mozzafiato, e soprattutto un vero e proprio concetto. Fate le cose assolutamente per bene. Tutto qui. Regole, non regole, ma cercate di farle per bene. Non tanto per una sanzione o per un verbale, non è nemmeno quello, quanto perché il pericolo è sempre là, dietro l'angolo. Ciao a tutti da Bigherette, spero che questo video possa essere utile e comunque anche interessante nell'averlo visto. Un abbraccio dalla Toscana. Ciao a tutti.